Il motore regolare Siamo partiti dal testa stretta evoluzione e lo abbiamo reinventato per un uso quotidiano. Abbiamo modificato l'angolo d'incrocio, ovvero l'intervallo di rotazione dell'albero motore misurato in gradi, durante il quale le valvole di aspirazione e quelle di scarico rimangono aperte simultaneamente. Siamo passati quindi dai 41 gradi del testa stretta evoluzione a 11 gradi, migliorando la regolarità di funzionamento e riducendo allo stesso tempo l'emissione dei gas in combusti e i consumi. Per caratterizzare i tre riding mode nelle diverse condizioni di utilizzo, abbiamo introdotto il sistema Ride by Wire. Questo sistema consente di controllare elettronicamente la gestione della coppia e della potenza del testa stretta a 11 gradi. All'interno dei riding mode sono quindi disponibili tre diverse mappe motore. La prima con erogazione sportiva e potenza massima da 162 cavalli, le altre con erogazione progressiva e potenza a scelta tra 100 e 162 cavalli. La combinazione mappa motore e riding mode può essere ulteriormente personalizzata. A moto ferma, premere per 3 secondi il pulsante Down, selezionare la voce Ride in mode e confermare con un clic del ritorno freccia. Utilizzando gli stessi comandi, selezionare il riding mode che si vuole personalizzare. A questo punto, selezionare Engine e scegliere la potenza desiderata. Confermare con il pulsante Ritorno frecce e mantenere premuto fino a quando non compare la scritta Memorized. Su Display compare la potenza selezionata e il colore dell'icona del riding mode passa da blu a giallo, per ricordarci che stiamo utilizzando un settaggio personalizzato. Utilizzando la funzione Default è sempre possibile ritornare ai settaggi Ducati. Grazie alla tecnologia utilizzata per i materiali delle sedi valvola e al miglioramento dell'efficienza della combustione, il tagliando con la registrazione del gioco valvole per il testa stretta a 11 gradi è stato portato a 24.000 km. Un risultato straordinario che prolunga al massimo il piacere di guida di questa moto.